Un giovane fotografo che compie i primi passi nel mondo della fotografia professionale si ritrova a doversi scontrare con una nuova attitudine che il mercato impone, quella di diventare più imprenditore di se stesso, acquisire una buona visione personale, conoscere i linguaggi ibridi, soprattutto quelli legati allo storytelling multimediale. Ed essendo due persone, io e Luca, che abbiamo vissuto in primis questo switch professionale, abbiamo deciso di creare un workshop che desse tutte queste risposte a un target giovane che si ritrova di fronte a questo bivio professionale importante. Diciamo che Cesura nasce su un terreno di sfida perché circa dieci anni fa chiudono le principali agenzie di fotografi e io con altri membri di Cesura decidiamo di fondare un collettivo. Lo scopo principale e la sfida più grande consiste nel resistere al mercato e cercare di imporre i nostri autori senza omologarli a quelle che sono le richieste del mercato. Accade frequentemente che in un percorso di un giovane fotografo, per scarsa conoscenza dei nuovi mercati professionali, si scelga un percorso che non rispecchi le proprie aspettative. Quindi in questi quattro giorni cerchiamo di lavorare su due fronti. Uno è una ricerca identitaria, quindi valutare quali sono le attitudini principali del singolo, spingerle al massimo e tendere a una specializzazione futura. E poi sull'acquisizione di un metodo professionale da spendere in qualsiasi ambito fotografico. Sì, diciamo che i motivi principali sono tre. Le finanze dei giornali sono diminuite rispetto al passato e di conseguenza c'è una minore possibilità di ottenere degli assegnati. Questo comporta una minor sicurezza nel lavoro del fotografo, soprattutto in territori difficili. Il terzo motivo è l'aumento dei fotografi, spesso bravi e competitivi, e questo determina una maggiore competizione e difficoltà a trovare un proprio spazio. La soluzione non è quella di aderire alle richieste del momento, perché sono passeggiere, ma lavorare sulla costruzione di una propria identità. Unica via per poter rendersi riconoscibile dal mercato dell'editoria, in questo caso, è resisterne il tempo. In questo momento professionale in cui la figura del fotografo è chiamata a trasformarsi ed aggiornarsi per rimanere stabile nel mercato, sicuramente un modo per investire correttamente nella professione è trasformarsi in content creator, cioè in creatore di contenuti. Quindi lavorare molto sulla scrittura progettuale, sulla scrittura di una corretta idea creativa da poter presentare a nuovi possibili clienti, in modo da sostenere i propri progetti. Un altro ambiente da indagare sicuramente è quello dei linguaggi multimediali, perché lo storytelling adesso si è spostato su queste piattaforme, che anche se non sono tutte ancora in grado di sostenere progetti, anche da un punto di vista economico, però meritano una profonda attenzione, perché il futuro della fotografia viaggia sicuramente su questi canali. Diciamo che i canali di comunicazione ne esistono di consolidati e di più recenti. I giornali, per quanto riguarda i fotogiornalisti, rimangono un ottimo canale, oltre che di lavoro, anche di promozione e comunicazione del proprio operato e del proprio lavoro. Per un fotografo che intraprende un percorso più autoriale, avere una galleria, o meglio, delle esposizioni in istituzioni pubblico-private, musei, permette all'artista, in questo caso, di acquisire una maggior riconoscibilità. Per il commerciale vale lo stesso, un fotografo ben rappresentato da un gruppo, da un'agenzia che promuove il suo lavoro, anche un autore, un artista, un fotogiornalista chiamato al commerciale risulta sostanzialmente più visibile, più riconoscibile. Tutto questo oggi passa attraverso i social network, e in particolare Instagram, per quanto riguarda il mondo della fotografia. Instagram sostanzialmente oggi costituisce, per un fotografo, un artista, un vero e proprio portfolio. E che sia un ufficio marketing, che sia un gallerista, che sia un'agenzia di comunicazione, o un cliente direttamente, o un giornale, il fotografo ha la possibilità di comunicare direttamente con i propri clienti, con i propri utenti. E se è capace di costruire una comunicazione di sé efficace, anche attraverso i social network, attraverso Instagram, il suo lavoro risulterà più efficace.